Oggi sarà il giorno in cui te lo rinfacceranno. Ora in qualche modo dovresti aver capito cosa fare. Non credo che nessuno provi per te quello che provo io adesso. Rumori di fondo. In giro si dice che tu non sia più innamorata. Sono sicuro che tu l'abbia già sentito ma non hai mai veramente avuto dubbi. Non credo che nessuno provi per te quello che provo io adesso. E tutte le strade che dobbiamo percorrere sono tortuose e tutte le luci che ci guidano là sono accecanti. Ci sono molte cose che mi piacerebbe dirti ma non so come fare. Perché? Forse sarai quella che mi salverà e dopo tutto sei il mio muro della meraviglia. Oggi è il giorno ma non potranno mai rinfacciartelo. A questo punto dovresti avere capito cosa non dovresti fare. Non credo che nessuno provi per te quello che provo io adesso. E tutte le strade che ti hanno condotto fin là erano tortuose e tutte le luci che illuminano il cammino sono accecanti. Ci sono molte cose che mi piacerebbe dirti ma non so come fare. Ho detto che forse sarai quella che mi salverà e dopo tutto sei la mia ancora di salvezza. Il mio muro della meraviglia. ci sono molte cose che mi piacerebbe dire. Ma non so come. perché magari magari sei la cosa che mi salverà e dopo tutto sei il mio muro della meraviglia. oasis. oasis.